Voglio lanciarti una provocazione oggi, mi riallaccio al video di ieri sui nemici e oggi parliamo di un concetto che è collegato a quello di ieri, al fatto che molte persone abbiano bisogno di trovare fuori da sé la causa delle loro sfighe, incapacità, malesseri, malanni o giustificazione del perché no. Quindi dall'altra parte diametralmente opposto al fatto di non essere responsabili della propria vita ma è colpa sua se mi è successo questo, è colpa del professore, è colpa dell'esaminatore, è colpa di quello, è colpa di quell'altro, è colpa della gente, dello stato, delle leggi, la colpa è sempre là fuori, non è mai qui dentro, io credo il contrario, credo che la colpa quando vogliamo vederla lì fuori è per de-responsabilizzarci e quindi per trovare tanti belli alibi e continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto rimanendo chiusi dentro la nostra zona di comfort. Dall'altra parte dello spettro c'è la responsabilità e quindi è un'altra cosa, è farsi carico, quindi che cos'è responsabilità? È farsi carico, farsi carico dell'abilità di rispondere, quindi responsabilità, abilità nella risposta. Noi siamo responsabili di quello che pensiamo, non è colpa degli altri se penso quello che penso, non è colpa degli altri se dico quello che dico o se faccio quello che faccio e di solito l'iter è proprio quello, penso, dico, faccio e quindi se penso è la base da cui poi scaturisce quello che dico verbalmente o non verbalmente e poi quello che agisco e quindi quello che faccio, dobbiamo stare attenti ai pensieri che abbiamo nella testa e pensieri che alimentiamo. Non voglio parlare di meditazione, ma la meditazione serve un po' ad allenare questo, ad allenare la presenza mentale e accorgersi di quello che facciamo, subito prima diciamo, esplicitamente o implicitamente e subito prima pensiamo. Quindi la meditazione non è altro che un percorso, non è la medicina che risolve tutti i mali, non è la pillola magica, non è niente, medita per meditare, non cercare uno scopo nella meditazione, ma ti accorgerai che la meditazione è lo scopo, perché cambierà tutto, non te ne accorgerai neanche, probabilmente, come è successo a me, se ne accorgeranno gli altri e te lo diranno, è diverso e è molto divertente quando succede. Ma ritornando appunto al discorso di meditazione, introspezione, presenza mentale, non giudicante nel momento presente, dico tu hai il dovere e la responsabilità di quello che pensi, dici e fai. Quindi se ti lamenti sempre che c'è qualcosa che è la causa delle tue sfighe, sei responsabile del lamentarti e se poi la gente si scoccia e comincia a vedere che ti stai facendo terra bruciata attorno, sei responsabile del output, quindi del risultato che stai ottenendo. Non sono gli altri che sono stronzi, sei tu che hai rotto talmente tanto le scatole che gli altri si sono allontanati perché sei pesante. E questo è solo un esempio, cioè non riesci ad avere un rapporto con una persona, nel senso che va tutto a scatafascio e ti lasci ogni 3x2 con la fidanzata di turno perché trovo solo delle sceme o viceversa trovo solo dei cretini. Ok, ma chi è che le trova? Chi è che sceglie quella persona lì? Tu la scegli, non è lui che si è imposto, sei obbligata a frequentarlo o sei obbligato a frequentarla, sei tu che hai deciso che quella persona ti piaceva. In base a cosa? A dei canoni? A delle decisioni inconsce? A dei parametri che tu ti sei? Quante volte, quante volte senti dire scelgo sempre la persona sbagliata? E certo, ma perché che cosa stai cercando in realtà? Perché ti trovi tutti i casi umani? Perché c'è certa gente che si trova delle situazioni assurde con della gente assurda che avrebbe bisogno soltanto di uno psichiatra probabilmente o di un ricovero coatto in qualche centro di recupero e tu ti trovi solo quelli. Ma ti sei chiesto o chiesta perché? Cioè è tua responsabilità anche questo che sta succedendo, perché sei tu che sei nella relazione, come sei tu che magari le relazioni non le porti avanti, perché ti annoi subito, perché cominci a fare il farfallone con altre e la tua lei direttamente o indirettamente se ne accorge e quando se ne accorge si arrabbia e ho cominciato a litigare e a te dà fastidio e lei diventa gelosa, a te dà fastidio che sia diventata gelosa. Ma sei tu che stai facendola diventare gelosa? E cioè capisci il meccanismo eh ma no è lei che è pesante mamma mia eh sì ma tu cosa stai facendo? Cioè facciamoci carico delle responsabilità nei risultati che otteniamo lì fuori. Non cerchiamo sempre di scaricare la responsabilità su fattori esterni che non dipendono da noi, perché è un gioco dell'asilo. Quando non hai ancora una, non hai ancora sviluppato bene un certo tipo di approccio forse alla vita o non hai ancora ben capito quali sono i limiti fra quello che dici, fai, pensi e quello che poi ottieni come risultato. Ma finché hai tre anni da Cesare non posso aspettarmi diversamente, anche se alle volte sbaglio e mi aspetto diversamente. Magari da te che ne hai 40 mi aspetterei qualcosa di diverso, ma è soltanto un'aspettativa mia perché sono convinto che a 40 anni magari qualcosa devi aver capito e magari qualcosa l'hai capito ma non hai capito quello. E quindi il fatto che ti lamenti che le cose vanno male è perché probabilmente devi smetterla di cercare lì fuori e devi cominciare a cercare qui dentro. E quando comincerai a cercare qui dentro le cose cambieranno magicamente. Tutto qua. E con questo chiudiamo anche l'allaccio al video di ieri. Quindi responsabilità. Devi essere un maestro nell'abilità di rispondere a ciò che la vita ti presenta come spunto. Perché tutto quello che ti si presenta è uno spunto per te per evolvere o per involvere. Quindi decidi tu da che parte vuoi andare. Vuoi salire o scendere? Fermo o non puoi stare? That's it.